Siccome ci sarà Nils Boboyessen, un vignettista danese che si trova accanto a me che parlerà in inglese, per coloro che non capite l'inglese dovete prendere le cuffie all'intrata. Quindi mi chiamo Thierry Vissol, sono il direttore del centro LibEx, Libre Expression della Fondazione Giuseppe Di Vagno, che è un centro per la promozione della libertà di espressione e della satira politica. E quindi ovviamente l'idea è di poter parlare di tutti i problemi che affronta la satira politica attraverso le vignette e in compagnia degli autori di queste vignette. Quindi come vi l'ho già detto, alla mia sinistra Nils Boboyessen, che è un vignettista di stampa danese, molto conosciuto, come tutti loro, quelli che sono qua e anche in questa sala. Accanto a lui Marilena Nardi, vignettista italiana, molto conosciuta. E accanto a Marilena, Marco De Angelis, che forse avete già sentito ieri mattina per il suo libro sulle vignette e l'intelligenza, il futuro dell'umanità dove l'intelligenza artificiale è in gran parte presente. E quindi volevo affrontare con vari temi, ma purtroppo le vignette non sono messe nell'ordine giusto, giusto, ma questo non importa. Prima di tutto vorrei fare la domanda ai tre vignettisti che sono qua e vi farò vedere le loro vignette che non danno un'idea molto positiva dell'intelligenza artificiale. Qual è la loro posizione generale in materia di intelligenza artificiale? Allora, dobbiamo stare molto attenti perché intelligenza artificiale è una parola grossa che ingloba talmente tante cose che è molto difficile di sapere esattamente di che cosa si parla. C'è un'intelligenza artificiale che noi utilizziamo da tantissimi anni. Io ho iniziato la mia vita universitaria facendo dei studi di ingegneria meccanica, questo era nel 69-70, e già utilizzavamo l'intelligenza artificiale, cioè stavamo programmando delle macchine per fare un certo lavoro, quindi su un computer grande, quasi come questa stanza, potevamo programmare delle carte perforate che mettevamo dopo nella macchina. Quindi l'intelligenza artificiale non è qualcosa di nuovo. In le prime missioni sulla Luna, nello spazio, eccetera, c'era già l'intelligenza artificiale. Adesso siamo a un stadio molto più sviluppato, dove le implicazioni di questa nuova tecnologia sono immense. L'intelligenza, quello che si chiama l'intelligenza artificiale generativa, è una che è un grado di aiutare effettivamente a fare un gran numero di cose. Ma nello stesso tempo, come tutte le tecnologie che sono state inventate dall'uomo, c'è una possibilità di utilizzarla molto negativamente. Per di più, è una teletecnologia che è pericolosa, nel senso che, e ne parleremo, che utilizza molta energia, terre rare, e che ha un funzionamento che è pericoloso, nel senso che è facilmente distruggibile. Si deve sapere, e ne parleremo anche, che il 95% degli influssi di informazione d'internet passa sotto i cavi marini, che sono molto facilmente tagliabili. All'inizio della prima guerra mondiale, quando c'era il telegrafo con i cavi sottomarini, la prima cosa che hanno fatto gli inglesi è stata di tagliare tutti i cavi che andavano verso la Germania per tagliare le comunicazioni. Quindi è possibile. Poi ci sono errori umani, e ne abbiamo visto molti spesso. Quindi si deve stare attento, non tutto è negativo, ma purtroppo la visione di oggi è assai negativa. Quindi chiederei, e effettivamente questa vignetta di Nils Boboiesen esprime bene la difficoltà di pensare che cosa si può dire sull'intelligenza artificiale. Ma chiederei subito a Nils di dare la sua posizione, diciamo, generale sulla tematica dell'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie. Can you hear me? Ok, fine. I'll take it off. Sorry. Actually, in connection with what Chiederei just said, I think it can help us do things better or do things worse. I don't am particularly negative towards it. So, I would say I'm hopeful in general because I think it can do good. and I think it's important to distinguish between our profession and how we can use it there in art as well and in a position to science. So, there's different aspects in whatever we are using it for, I believe. We should have AI. Yes, that's right. Marilena, qual è la tua posizione? Anche tu non sei molto ottimista. Ecco. Beh, questa in particolare era l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito bellico. Quindi quello che si può fare con uno strumento che, come diceva anche Nils, può essere utilizzato in più modi, in senso positivo, in senso decisamente distruttivo. Io sono molto curiosa di vedere le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale generativa e quello che personalmente mi ha colpito cercando di capire un po' meglio il problema è come questo tipo di strumento finisca per creare ancora più differenze, ancora più divisione fra chi beneficia dello strumento e chi invece è in qualche maniera schiavo e lo deve produrre, lo deve addestrare. Quindi quello che a me preoccupa è che sia un ulteriore modo per creare differenze e disuguaglianze sociali con tutto quello che ne consegue. Marco. Ma io devo dire che sono stato sempre favorevole a qualsiasi esperimento, progresso scientifico, guardando al futuro sempre con la speranza adesso magari che anche il digitale, appunto l'intelligenza anche artificiale potesse aiutarci ad accelerare la nostra scienza, i progressi della medicina, nel volo interspaziale, nell'esplorazione, nella ricerca in genere. Però devo dire che come appassionato di fantascienza, sin da quando ero giovane, sarà forse perché allevato con i racconti degli scrittori più catastrofisti, ho sempre avuto una visione del futuro, del digitale, come sempre più invadente nella nostra vita, fino ad immaginare come addirittura con questo disegno dell'85 pubblicato sul Reader Digest e immaginando proprio una sostituzione dell'uomo e del robot proprio nell'essenza stessa della propria anima, cioè in cui il robot addirittura si impadronisce del cervello dell'uomo. E questo è il mio grande timore. Il timore cioè che noi stiamo facendo dei continui progressi, soprattutto nell'intelligenza generativa, ma siamo arrivati ormai al penultimo stadio. Il prossimo stadio è quello di dotare l'intelligenza artificiale di una propria coscienza, una coscienza di sé, il che è veramente molto pericoloso perché gli si dà la possibilità di mettersi al pari dell'uomo e addirittura sostituirlo. Quindi non è veramente una visione molto ottimista, come dici tu, sei un ottimista con delle crisi di pessimismo latente, diciamo. E ovviamente l'intelligenza artificiale la conosciamo benissimo tramite quello che stiamo utilizzando dappertutto, che è lo smartphone. E ovviamente tramite lo smartphone l'utilizzazione dei social networks. E anche questa ovviamente contribuisce a uno sviluppo estremamente importante dell'intelligenza artificiale perché appunto l'intelligenza artificiale si nutrisce da tutte le informazioni che noi mandiamo tramite il nostro smartphone o il nostro computer. Esattamente la vignetta che presenta qua. Ma infatti, guarda, questa vignetta poi tra l'altro, adesso non voglio continuare io a parlare, però è effettivamente uno dei principali problemi che adesso lega l'intelligenza artificiale ai social, per dire, all'uso sfrenato dell'informazione su computer. C'era Mark Twain che io ammiro moltissimo che diceva che una bugia riesce a fare il giro del mondo nel tempo stesso in cui la verità sta ancora lasciandosi le scarpe. Ed è la verità. Ed è quello che succede con internet, che succede con il mondo digitale. Perciò adesso in cui già eravamo minacciati dalle fake news sia scritte sia per immagini, adesso avremo delle fake news addirittura create talmente ad arte da sembrare realtà e indistinguibile e non verificabile. E questa è un'altra vignetta molto vecchia, devo dire, degli anni 90 in cui immagino questo nuovo profeta del futuro, nuovo San Francesco, se vogliamo, capito, ma robotico. Sì, appunto, che è creato dall'intelligenza artificiale e della coscienza che potrebbe avere il robot. Marilena, qual è la tua posizione con i smartphone? Aspetta che ci arrivo. Mi spiace di essere obbligato di fare... Funziona, sì. Penso che sia, come dire, con gli smartphone, è un utilizzo, come dire, che viene reso più facile, reso più... come dire, più utile, sì, più immediato, ma in realtà questa parla già di qualcos'altro. non so se devo agganciarmi a questa tematica. Sì, perché è smartphone e computer, quindi è un po' la stessa cosa. Allora, ero rimasta un po' in sospeso per quello, perché questo disegno in particolare si riferisce al fatto che c'è una parte dell'intelligenza artificiale che noi non vediamo ed è quella che riguarda chi deve addestrare, chi deve mettere le etichette, chi deve mettere i filtri affinché l'intelligenza artificiale sia addestrata a non mostrarci cose che non dovremmo vedere o non dovremmo sapere. ed è questo che mi riferivo anche quando dicevo delle diseguaglianze, perché c'è tutta una parte dell'intelligenza artificiale che viene realizzata grazie ad un lavoro estremamente faticoso, estremamente rischioso di persone che abitano in America Latina, in Africa, in Asia, che vengono sfruttate, vengono pagate pochissimo, vengono pagate un millesimo di dollaro ad ogni azione che fanno per filtrare questi dati perché l'intelligenza per poter funzionare deve nutrirsi di dati ma non tutti i dati devono essere utilizzati perché poi si possa procedere alla riformulazione del messaggio, del testo, dell'immagine. Quindi queste persone sono costrette da contratti capestro a vedere immagini terrificanti per 8, 10, 12 ore al giorno per far sì che poi noi abbiamo un utilizzo sicuro dell'intelligenza artificiale ed è un aspetto di cui si parla molto poco ed è terribile perché sono nuovi schiavi sono persone che per esempio si organizzano in casa e organizzano tutta la famiglia a vedere dei video per darsi il cambio, per lavorare di continuo. Sono pagati pochissimo appena un'azienda decide di passare in un altro paese, in un'altra location rimangono anche senza lavoro sono senza diritti insomma è uno sfruttamento di cui si parla poco cioè noi vediamo dell'intelligenza artificiale noi occidentali i benefici e la parte più promettente più luminosa ma dietro c'è gente che veramente sta succombendo di lavoro di fatica di stress un divario immenso Nils Sì più persone, quindi c'è moltissima possibilità. E abbiamo bisogno di prendere l'attenzione e dire in cui erano usate, come usate in questo mondo, ma anche in nostra profissione, cosa dobbiamo fare e dove possiamo usare. A volte penso che abbiamo bisogno di ricordare un po' di come i computer e come usiamo ora. E, ovviamente, c'è una differenza tra le persone che possono usare e le persone che hanno bisogno di usare. Ma questo è quello che dobbiamo fare, credo, per capire questa tecnologia. Inoltre, c'è un grande problema con l'intelligenza, l'intelligenza artificiale. l'intelligenza... per costruire e fare funzionare un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale si deve fare una speccia di concentrazione delle informazioni, eliminare quelle che sono estreme e conservare quelle che sono più o meno medie, che, essendo medie, sono spesso mediocre. Cioè, la mediocrità va insieme alla media. E poi, quando si parla, diciamo, di un utilizzo per dei motivi intellettuali, per la stampa, per scrivere, per fare... sono eliminati tutti i pensieri che sono al di fuori, diciamo, di quello che è generalmente ammesso. E quello vuol dire che supprime, in un certo modo, la possibilità di avere dei dibattiti e di avere delle contraddizioni contro questo pensiero unico, medio, mediocre. E questo, ovviamente, è probabilmente un altro aspetto che vorrei affrontare adesso e che, appunto, rende estremamente complicata la possibilità di sfruttare in una maniera, diciamo, molto critica questo strumento e ha anche, ovviamente, un impatto sull'uomo. Pensate, per esempio, solo un esempio, i tassi. I tassi che adesso utilizzano l'intelligenza artificiale per trovare la strada dove devono andare, non si ricordano più il nome delle strade perché è troppo facile andare su internet e quindi ci provoca una specie di riduzione dell'uso di certi elementi, sinapsi, del nostro cervello che riduce la capacità di memorizzare, di ricordarsi, di riflettere e di affrontare, diciamo, la realtà su base di questa informazione memorizzata. E quindi adesso chiederei ancora a Nils come vede questo impatto dell'intelligenza artificiale sull'uomo? Oh, questo è una domanda difficile. Vedo, vedo, vedo. Vedo, 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 vedo. Vedo, vedo. and we have to just I mean it's it is a maze and we have to we have to start in a corner and try to use it that's all I can say of course there are these consequences you say but still you can do it the old fashioned way but we have to go along with times I think and we cannot change it that's my point the point is also that in your work in your profession you use the pen but you've got the competition of intelligence artificial but I'm using digital knowledge to use my pen all I know is from the digital world now I'm getting all these news I couldn't get at the same speed at the same time 20-30 years ago so there's the other side of that maybe I'm using just a pencil but all the brain behind it is fed by the internet and I can search and I can find news and knowledge so much faster providing it's not false news ma l'interpretazione l'interpretazione di questa vignetta sarebbe che tu con il tuo la tua pena potresti mettere fine all'intelligenza artificiale che sarebbe solo una bolla di vento yeah sorry I said in this cartoon you are using you see the pen which is ready to make this balloon explode yes do you mean that you would like to do that or do you mean that perhaps it's the fear of the artificial intelligence it's like it could be warm air it could be whatever we make it to so we do not quite agree I think yeah perfect perfect Marilena qual è la tua reazione in fronte all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'uomo e sui libri sono d'accordo con quello che diceva Nils cioè ci serviamo quotidianamente di informazioni che vengono rese disponibili accessibili velocemente grazie all'intelligenza artificiale quindi semmai il problema è posto dall'identità da quello che accennava prima anche Marco sul fatto che ci possa essere una coscienza nell'intelligenza artificiale o un'artificialità nell'uomo sì però non è un problema allora dovremmo eliminare le protesi dovremmo eliminare tutto quello che interviene già nell'uomo per facilitare la vita dell'uomo stesso dovremmo eliminare tutto se fosse quello il pericolo invece va bene va utilizzata ma sei pronta a mettere un chip nel tuo cervello? se avessi un problema serio di per esempio di ambulazione perché no? se questo mi permette di risolvere un problema certo dovrei sapere che rischi comporta questo però voglio dire dipende anche lì può essere utilizzata bene o male che mi mettano un chip così per il gusto di vedere come funziono io dopo no però se è come dire al servizio di qualcosa che mi può permettere di ascoltare perché potrei avere un problema di udito o di vedere o perché ho bisogno di muovermi perché non provare? sì ma a questo punto arriviamo alla possibilità di mettere dei chip nei soldati per permettere di ammazzare più facilmente più velocemente in maniera più efficiente allora siamo sempre lì abbiamo un problema di uno strumento come lo utilizziamo? come si usa? si usa come dire per favorire l'uomo o per annientarlo? ma questo è sempre stato il dilemma del progresso ma adesso mancano le regole qualsiasi progresso dell'uomo ha avuto un effetto positivo e una capacità distruttiva assolutamente enorme ora l'etica le legislazioni eccetera non hanno mai impedito per esempio Israele di fare esplodere i talkie walkie e quindi può funzionare o meno e questo lo chiederei a Marco De Angelis ma io credo che gran parte delle invenzioni che sono state fatte potevano essere usate bene o male è sempre di peso dall'uomo quando è stata inventata l'automobile questo grande questo macinino che bisognava girare la manovella che sostituiva i cavalli nessuno avrebbe mai immaginato che nel giro di pochi anni si sarebbe trasformata in un carro armato per cui è così tante altre invenzioni dipende sempre da noi dipende dai paletti che ci mettiamo dipende dalla nostra etica dalla nostra morale da quello che vogliamo farne i missili possono servire per arrivare sulla luna per mettere in orbita dei satelliti per le telecomunicazioni ma possono servire anche per distruggere delle città per cui dipende sempre da noi l'intelligenza artificiale che non è nata adesso come dicevi te ma è nata già da vari decenni soltanto in forma basica perché già che possiamo dire già i primi computer erano in fondo intelligenza artificiale che servivano per fare per risolvere pochi elementi rapidamente la calcolatrice tascabile era una forma di intelligenza artificiale se vogliamo poi il progresso è stato talmente veloce noi abbiamo alle nostre spalle un secolo che è chiamato il secolo breve noi questo è ancora più che breve perché noi in vent'anni abbiamo fatto dei progressi spaventosi ma mentre nel secolo scorso gran parte delle delle invenzioni hanno permesso che l'uomo restasse se stesso queste che stiamo facendo adesso nel campo dell'intelligenza artificiale invece stanno snaturando l'uomo e lo rendono sempre più dipendente noi sì eravamo dipendenti della televisione ma potevamo vivere benissimo anche senza adesso nessuno potrebbe vivere senza il telefonino senza i dati che raccoglie sul computer e anche la possibilità di avere questa finestra sul mondo in questa globalizzazione della notizia e anche della falsa notizia che viviamo quotidianamente grazie ai social e queste forme di intelligenza qua avete sentito la versione ottimista di Marco De Angelis ma hai avuto probabilmente un attacco di pessimismo quando hai disegnato questa il sacrificio dell'uomo sull'altare sull'altare dell'intelligenza artificiale e questo tra qualche decennio saremmo ridotti così con i sacerdoti che sacrificano magari l'ultimo uomo magari un povero scrittore un povero disegnatore che ha provato ad usare ancora carta ed inchiostro per realizzare le proprie illustrazioni e poi anche ha avuto un problema anche di attacco di pessimismo pensando al futuro possibile beh perché l'intelligenza artificiale può essere può servire per migliorare l'organizzazione del lavoro però l'uomo resterà sempre diciamo il lavoro è sicuramente migliorato come organizzazione come come divisione degli incarichi e quant'altro però purtroppo le disparità sociali resteranno sempre anzi verranno ancora più aggravate e là vai oltre perché il capolaratto che è specificamente per i migranti nel tuo disegno ci sono due italiani anche che stanno lavorando sì tra l'altro la situazione è peggiorata se posso quello che spaventa di più è proprio il fatto che non siamo più noi a decidere come usare questo strumento ma che sia lo strumento stesso che decida per noi come usarci e usarsi è quello che mette un po' di inquietudine cioè in questa intelligenza artificiale di tipo generativo che secondo alcuni scienziati potrebbe avere già sviluppato una forma tra virgolette di coscienza pare ci sono teorie che dicono questo che si vada verso che sia già una specie di software che dimostra una sorta di consapevolezza di sé per cui non si può definire un essere umano perché non è biologico ma c'è chi comincia a definirlo persona sì ma la coscienza di sé non basta devi avere anche la coscienza dell'altro e questo non è sicuro che sia possibile però quello che a noi spaventa probabilmente per tanti film e libri e fumetti di fantascienza un po' distopici che abbiamo visto è questo che ci inquieta il fatto di non essere più noi a decidere come utilizzare questo strumento o se usare il missile a fin di bene o se per far fuori dei profughi è quello che inquieta Nils have you some comment to make on what was said no it's true because it's sorry because it's we have both sides all the time that's what we're discussing and we're guessing a little bit because we don't really know what will happen but the fear of course is that it's out of our control which it very well could be perhaps so I agree to what I hear but I still have optimistic I mean it's not we kill people all the time even without artificial intelligence so I mean it's and probably more people were killed during the First World War than ever after or the Second World War ever after so I mean it's how we use it we are back to basics again I mean it's what we believe in but this artificial intelligence non has only an impact individual on the human because as you said Marilena the fact that we are not more we who decide how to use the artificial intelligence but the artificial intelligence that we push to do a certain number of things or simply the fact that for example the government obligate to pass through the artificial intelligence to have access to a lot of services and so we have the impact of this artificial intelligence not only on the human but also on the whole entire and on the society and so I would like to ask Marco De Angelis lui pensa che quasi quasi anche là probabilmente un attacco di pessimismo che ti ha fatto fare questa vignetta tutti noi che lavoriamo senza parole tutti noi che lavoriamo con disegni senza parole lavoriamo ovviamente sulla metafora il paradosso il surreale il simbolismo io vedo poi in fondo in questo momento l'intelligenza artificiale rappresentata qui dal robot un po' badalmente forse però è un elemento un simbolo che rappresenta questa intelligenza meccanica digitale che quasi potrebbe sostituirsi all'uomo come uno stregone io penso al topolino dell'apprendista stregone che in fondo sperimenta la bacchetta che ha rubato allo stregone facendo lavorare le scope per sé fino a quando poi invece ne perde il controllo e ne viene travolto e fagocitato in una spirale di formule e di disastri vari e questo è l'incapacità cioè c'è il rischio che molti tecnici digitali molti scienziati anche molti industriali si stiano lasciando prendere dall'entusiasmo dell'intelligenza artificiale lo stiamo vedendo soprattutto nel nostro campo almeno in particolar modo nel nostro campo noi lavoriamo nel campo dell'illustrazione della vignetta satirica comunque dell'immagine e in questo momento ci sentiamo molto minacciati nel nostro campo perché vediamo già che vari editori piuttosto che rivolgersi ad un illustratore per fare o a scegliere tra vari illustratori tra i vari stili per realizzare delle copertine dei propri libri invece si avvalgono dell'apporto di un unico tecnico un unico ragazzo che magari sa anche appena lavorare sul computer con un paio di programmi giusti di intelligenza artificiale con qualche comando qualche prompt che danno al computer possono poi trovare una ventina di immagini a scelta di vario genere mischiando vari stili pescando immagini dal web mescolandole fino a trovare un'immagine che corrisponda più o meno alla loro esigenza e senza spendere praticamente nulla a questo punto ci chiediamo ma ci deve essere anche un limite perché voglio dire dove finisce l'arte dove comincia l'arte dove comincia la creatività lì non c'è creatività lì è come fare una sorta di collage rubare le immagini utilizzarle c'è il discorso del diritto d'autore ci sono moltissime regole che vanno studiate non è una questione è una questione etica una questione morale ma anche una questione poi alla fine giuridica e quindi ti vedi un po' così? e qui vedo lo scienziato che praticamente è dopo non io ma lo scienziato che ha inventato poi questa specie è un po' come il rabbino di Praga che crea il golem soltanto il golem era un mostro senza cervello soltanto distruttivo immaginiamo un golem con il cervello umano quello che potrebbe fare e così praticamente è stato messo in gabbia lui stesso nuovo animale domestico del futuro ma l'intelligenza artificiale potrebbe anche avere un impatto sulla spaccatura del mondo tra quelli che possono utilizzarla efficientemente in un mondo che funziona e quelli come disegni qua e beh qui mi posso riagganciare a quello che diceva Marilena prima del fatto della spaccatura del fatto noi abbiamo una parte il sud del mondo che diciamo che poi non corrisponde neanche perché anche molte altre zone più a nord dell'Africa o quant'altro però comunque abbiamo gran parte del pianeta che è molto arretrato rispetto al mondo occidentale e che quindi non si può avvalere di mezzi digitali mezzi tecnici e continua a vivere nella propria povertà paradossalmente lo si vede anche nella realtà perché ci sono molti popoli si vedono in paesi in villaggi africani delle persone che vivono nella capanna di fango ma hanno poi il telefonino che è una finestra sul mondo il che è anche un bene che però li pone di fronte al mondo dal basso della loro infinita povertà e qui non c'è soluzione per il poveretto che continuerà a patire la fame però almeno si può illudere di mangiare un hamburger creato artificialmente e appunto Marilena tu stavi parlando di questi problemi della spaccatura del mondo non solo nord-sud ma anche diciamo all'interno delle società tra i ricchi e poveri ma al di là di questi problemi mi dispiace se ho obbligato di fare un po' di avanti e indietro c'è anche tutta una questa è la spaccatura anche del mondo attuale cioè nel nostro mondo ci sono gente che sono in grado di utilizzare tutti questi strumenti internet dell'intelligenza artificiale eccetera e poi altri che appunto sono completamente persi perché non hanno la capacità di utilizzarlo eventualmente l'utilizzano senza sapere esattamente che cosa vuol dire utilizzarlo sì il disegno vuol dire esattamente questo quindi anche qui serve a porci il problema come come possiamo non perderci dentro questo labirinto è un po' il disegno che ha fatto anche Nils e qui in qualche maniera si vede che ci sono delle persone che già sono in difficoltà quindi bisognerebbe preoccuparsi anche di quelle persone e stamattina avevamo sentito appunto un'altra conferenza in cui si diceva sarebbe opportuno che a scuola ci fosse l'introduzione di un'ora di un tempo dedicato alla formazione del digitale che non vuol dire preparare dei tecnici ma vuol dire sapere come affrontare poi nella vita reale questi strumenti e saperli riconoscere per sapersi anche difendere perché tante cose passano per per l'internet sempre di più con tutte le applicazioni che ci obbligano di utilizzare anche i stati siamo costretti a usare moltissimo di queste applicazioni e però rischiamo anche di essere imbrogliati di continuo perché non sappiamo neanche più distinguere dove c'è l'applicazione utile dove c'è la trappola dove c'è il phishing quindi sì ci sono delle persone che si troveranno in grossa difficoltà e bisogna pensare anche a loro ma questo era questo era appunto il digital divide come lo vedi tu sì qui ovviamente è un po' forzata la cosa ma era per visualizzare il fatto che si crea una frattura netta tra chi può permettersi di utilizzare al meglio queste tecnologie e chi invece diventa schiavo nel senso che non se ne può servire lavora per ma non è pagato a sufficienza quindi c'è proprio anche in questo caso uno strumento che potrebbe essere utilissimo all'uomo ma che non è utilizzato al massimo anche per evitare questo tipo di e là non vedi neanche la divisione tra coloro che hanno le risorse i minerali tutti i fonti necessari per fabbricare tutti questi strumenti elettronici che richiedono delle terre rare che richiedono dell'energia eccetera e quindi una parte del mondo che produce e poi l'altra parte che sfrutta c'è una parte che viene sfruttata in tutti i sensi per le terre per il lavoro per le competenze che hanno e che non sono riconosciute come competenze valide altrimenti dovrebbero pagarle e c'è una parte che invece beneficia di questo benessere che è creato anche da altri è un po' il mondo che colonizza un'altra parte di mondo ma tu lo vedi anche in una maniera che va un po' più avanti cioè al di là di tutti questi problemi di produzione eccetera c'è una problematica di sfruttamento diciamo dell'energia e dell'acqua che è assolutamente necessaria sempre di più il consumo attuale dell'intelligenza artificiale e di tutti tutti gli strumenti di internet rappresenta più o meno 15% dell'utilizzo dell'energia a livello mondiale e quindi c'è un rischio anche in una situazione dove l'energia potrebbe avere qualche difficoltà ad essere prodotta di vedere l'utilizzo diciamo dell'energia e dell'acqua per fare dell'intelligenza artificiale piuttosto che per servire all'uomo in una maniera concreta è così? sì sì è così questo è un disegno che in qualche maniera indica questo un consumo enorme di risorse idriche acqua dolce che potrebbe essere utilizzata per l'agricoltura o per l'uomo direttamente e che serve per raffreddare le macchine cioè queste macchine hanno bisogno di moltissima energia e di moltissima acqua per essere raffreddate ed è un'acqua che va in evaporazione quindi non è non è facile recuperarla cioè il ciclo dell'acqua evaporata dura circa un anno quindi prima di ritornare effettivamente disponibile per l'attività umana o comunque per l'ambiente passa un anno e quindi più noi sviluppiamo queste tecnologie più come dire consumiamo altre parti di ambiente dobbiamo esserne consapevoli ogni volta che come dire produciamo dei click che per noi sembrano qualcosa di molto evanescente molto effimero molto etereo ma in realtà dietro ci sono delle macchine che per funzionare per essere veloci per darci le risposte per incrociare tutti i dati le ricerche banalmente che facciamo anche su wikipedia andando da una parte all'altra però da qualche parte ci sono dei server che consumano energia e consumano acqua e ne consumano tantissima e nello stesso tempo questa diciamo tecnologia è una tecnologia che può essere estremamente fragile di fatto come dicevo all'introduzione 95% dell'informazione digitale passa tramite i cavi sottomarini ci sono miliardi di chilometri di cavi che collegano assolutamente tutti i continenti ovviamente ogni tanto sono in acqua poco profonda e là ci sono tantissimi problemi perché l'attività umana contribue a distruggerle e quando sono in acqua molto profonda il contrario è la pressione eccetera eccetera e poi c'è l'attività umana la capacità di qualcuno che vuole fare il male di distruggere questi cavi e quindi c'è in permanenza delle decine di navi da cui il compito è di seguire tutti questi cavi e di provare di ripararli quando sono e quindi quando sono rotti o quando c'è un attentato e ce ne sono e quindi è molto facile se si pensa a una futura guerra di tagliare tutti questi cavi e se si tagliano questi cavi vuol dire che niente di quello che stiamo utilizzando con dell'informazione digitale funzionerebbe ospedale macchine aerei eccetera eccetera e quindi siamo in un mondo che tramite l'intelligenza artificiale diventa sempre di più a partire dal momento che è generalizzata il suo utilizzo che diventa sempre di più fragile facile da distruggere facile da cambiare in un modo anche utilizzando l'informazione in un modo fake news deep fake eccetera eccetera posso aggiungere poi devi aggiungere la maggior parte di questi cavi non appartengono agli stati non sono stati messi lì da come dire enti governativi sono privati cioè la maggior parte sono di proprietà di privati o di consorzi privati pubblici solo il 20% se non ricordo male è la percentuale di quelli che sono come dire gestiti da stati quindi siamo in mano di miliardari compagnie che potrebbero decidere da un giorno all'altro di isolare una parte di mondo un'altra oppure di utilizzare questi cavi per altri usi che è veramente un lato inquietante della faccenda se aggiungiamo a questo senza che sia il soggetto di oggi la conquista dello spazio è andare a amarsi sempre più affari privati che affari distatti e quindi effettivamente la combinazione tra spazio cavi internet eccetera diventa qualcosa che in termini sociali in termini politici conduce a farsi molte molte domande sull'impatto reale sul mondo e su uomini dell'intelligenza artificiale ma adesso vorrei chiedere a Nils you are not sleeping Iopner not yet so for you there are some positive aspects of artificial intelligence I think every technology has both sides which I said before so for me it's like this is actually a way of showing that it could be very difficult for a machine to understand the human brain because we function because we function so differently so that's well that's it so for you what was saying Marco De Angelis about an artificial intelligence which would have a conscience which would be able to act as a human being is impossible because we are so different because the brain is so complex that okay sorry I was I had the wrong ear on no I was asking you do you think that the man that's intelligent artificial intelligence is not able to achieve what a human brain is able to achieve and will never be no I think it could it could yes but why have you got an interrogative points because it's it's a task it has to be over time we are not understandable like that so that's it's a process and I I suppose we can control that process if we have the ambition to do so but who would have the ambition to control it if the situation is what we described just before where it's a big multinational who are managing we are already in the hands of multinational media corporations it's meta it's all the big stuff it's already going on and you're still optimistic no I'm not I'm not super optimistic but I'm just saying it that artificial intelligence is just an aspect of that it's not not the driver yeah but still it's like it's fishing in our brain yes it is and you don't care about this no I'm not saying I don't care I'm just not having a super pessimistic view about it because there's good aspects of it we see great leaps inside medicine inside science so it's a balancing thing we have to control of course but to refuse it completely would be mad yeah but for you what can we do us as citizens as persons to be able to have a minimum control on the evolution and on the future of the use of this kind of tools do you think we have the capacity we have still the capacity we are still let's say democratic system where somebody would ask us what we think about it or let us decide on what we think should be I don't know I don't know yeah and I think we're guessing we're guessing here yeah we're guessing yeah for me I'm very pessimistic yeah I'm not guessing anymore Marilena cosa pensi tu come vedi il futuro con l'intelligenza artificiale qua lo vedi un po' complicato no? si ma qua volevo un po' giocare sul fatto che è una specie di Frankenstein anche questa mettiamo insieme tanti pezzi e poi perché tutto funzioni ci vuole comunque una una spina inserita nella presa quindi possiamo possiamo usarla in tanti modi potrebbe essere una nuova creatura capace di poesia capace di scrittura capace di creare ma al momento la vedo ancora come una creatura fatta dall'uomo mettendo insieme tanti pezzi che a sua volta mette insieme tanti pezzi e risulta ancora un po' goffa ancora un po' mostruosa simpaticamente mostruosa un po' come lo stregone di Marco eppure anche tu hai dei attacchi di pessimismo si si molto forti decisamente forti si perché quando si entra dentro alla parte come dire meno narrata meno chiara ti fa un po' paura pensare che ci sia qualcuno che poi controlla ti obbliga ad un lavoro ti obbliga per esempio una delle cose che spesso si sentono dire è che grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie il lavoro dell'uomo può essere semplificato però a volte succede che siccome viene semplificato siccome si guadagna tempo poi si è costretti a lavorare comunque di più quindi ci sono ancora più persone incatenate al loro posto di lavoro che devono grazie all'intelligenza che sostituisce altri operatori un po' come si diceva illustratori i disegnatori possono essere sostituiti tra virgolette spero di no completamente da un programma da un software e però chi rimane ad utilizzarli poi deve scrivere il testo deve impaginare deve mettere il disegno e quindi alla fine non è che si semplifica il lavoro è solo obbligato a fare più cose aiutato da questo strumento ma comunque deve lavorare sempre quindi è una nuova forma di potrebbe essere una nuova forma di schiavitù ecco mettiamo il condizionale e Marco come vedi il futuro il tuo lato dici prima lato ottimista o attacco pesi ma io voglio essere ottimista nel senso che ci stiamo rendendo ci sono moltissimi dibattiti ci sono moltissimi dibattiti sull'argomento ci sono moltissimi dibattiti sull'argomento leggo articoli stanno scrivendo libri eccetera il che vuol dire che comunque l'uomo si sta ponendo questa questione ci si sta rendendo conto che questa forza che è stata scatenata potrebbe anche travolgerci purtroppo ci sono delle persone talmente entusiaste come in un gioco come dei bambini che stiano giocando talmente entusiaste di questa cosa che stanno riuscendo a far evolvere a ritmi impressionanti che c'è pericolo veramente che poi ci si ritrovi nel giro di pochi anni con un'intelligenza artificiale veramente dotata di autocoscienza e che possa sostituire in vari settori le nostre funzioni io leggo in vari articoli ah ma l'intelligenza artificiale non toglierà posti di lavoro anzi ne aumenterà no aumenterà assolutamente no al limite cambierà offrirà nuove possibilità ad alcuni però da che mondo è mondo ogni volta che si è fatto qualche progresso in termine meccanico tecnologico eccetera diciamo gli uomini hanno sempre cioè si sono sempre persi i posti di lavoro se pensiamo all'introduzione della linotype a metà dell'ottocento con i lavoratori inglesi delle tipografie di londra che protestavano nelle strade perché ovviamente la linotype faceva il lavoro di dieci tipografi e siamo andati avanti così attraverso tutto il secolo successivo fino ad arrivare adesso per cui sicuramente l'intelligenza artificiale sostituirà all'uomo in molti molti lavori e bisogna vedere poi come riuscire ad equilibrare le funzioni dell'intelligenza artificiale e la presenza dell'uomo dare un ruolo all'uomo di controllo di supporto l'uomo deve essere sempre il padrone come dire detto in termini così abbastanza crudi l'intelligenza artificiale è sicuramente utile se noi pensiamo adesso noi siamo proiettati verso lo spazio se permettiamo all'intelligenza artificiale di lavorare creando in realtà l'intelligenza artificiale ha dei neuroni artificiali noi abbiamo neuroni sinapsi che con scariche nervose ci danno vita al ragionamento se si crea un perfetto sistema neuronale artificiale in grado di correggersi di avere una conoscenza universale di addirittura adesso si dice stanno cercando di insegnare all'intelligenza artificiale di pensare prima di rispondere stavo facendo una battuta con un collega giornalista giorni fa se pensi che noi esseri umani abbiamo imparato a fatica a contare fino a tre prima di rispondere siamo fregati per cui effettivamente questo è il grande timore però io spero che l'intelligenza artificiale grazie agli input che gli diamo senza distrazioni senza problemi diciamo di coscienza eccetera permetta permetta magari di trovare un motore interstellare al quale l'uomo non ha mai pensato diciamo noi possiamo dare delle possibilità scoprire delle cose nel campo della medicina che l'uomo non ha la possibilità di scoprire perché non ha mai analizzato le cose da un punto di vista freddo della macchina ma dobbiamo dare delle possibilità dobbiamo sfruttarla ma dobbiamo anche regolarla e fino adesso però ancora non si è fatto nulla per questo in questa vignetta hai avuto un colasso tra il tuo ottimismo e il tuo pessimismo questa è una vignetta ottimista cioè vedi che finalmente i robot possono scoprire l'amore una volta che hanno distrutto il mondo l'amore c'è sempre ormai il mondo è distrutto rimane la vita artificiale ma si amano bisogna capire se riusciranno a dar vita a proseguire la vita ecco contare fino a tre prima di amarsi o qualcosa così contare fino a tre prima di amarsi e allora arriviamo alla fine di questo e mi dispiace che sono obbligato di passare tutto in ecco allora lascerei la parola a Nils Boboyessen per chiudere questa quindi Nils è un uomo molto immaginativo e ha trovato due modi per proteggersi contro gli effetti dell'intelligenza artificiale il primo è l'uso dell'ombrello e il secondo è la capacità di staccare i nostri instrumenti puoi commentare questo di staccare all my drawings about artificial intelligence show both sides because it is an open question and I like to see it from both sides and in my illustrations and in my cartoons I like to ask a question rather than give an answer so that's why I'm all over the place but do you plug off your computer often yeah that's what we have to do I mean even the children today with in the schools with their iPhones and and where I come from in Denmark they're just taking them out of the schools again and that's actually banned because they have to learn to relax and think themselves so so I mean we are doing something good in a small scale okay have you got any questions? have you 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 quick question thank you everybody wonderful presentation I don't know as artists how much feedback you get from your audience and I'm wondering if there's a generational gap I wonder if the younger generations are having the same debate as we are here I think they have I mean my kids are talking about it and using it and thinking about the consequences the social consequences about looking down all the time and they're using it for their homework I mean they use AI in small scale to write their stuff so there's a big discussion I'm not sure exactly what but they're talking about it a lot Marilena I've had the opportunity to see it with my students Marilena is professora all'Università di Venezia all'Accademia di Belle Arti e i miei studenti proprio perché siamo disegnatori sono disegnatori disegnatrici si sono preoccupati di capire se aveva un senso studiare arte se poi comunque venivano sostituiti da una macchina e l'hanno sperimentato questo software cioè sono arrivati in classe mostrandomi dei disegni per un tema per un soggetto che avevo dato ed è stato oggetto anche di confronto perché effettivamente ci sono delle immagini efficaci sono forti però appunto anche lì bisognerebbe poi regolamentare il tutto si stanno ponendo delle domande anche loro quello che vedo è che c'è la curiosità da un lato la preoccupazione dall'altra però siamo lì un po' siamo un po' a metà e comunque l'intelligenza c'è già e c'è già abbastanza avanti quindi l'unica cosa che riusciamo secondo me adesso è tentare di di costruire delle regole che possano essere sensate e valide perché ormai c'è già non c'è altro da fare vuoi aggiungere qualcosa Marco? ma sì è una questione generazionale indubbiamente i miei ormai sono grandi uno 32 l'altra 26 lavorano però guardano con interesse curiosità anche in modo molto critico l'uso dell'intelligenza artificiale devo dire e soprattutto loro vivono poi alla fine guardano con attenzione anche il mio ambito lavorativo e effettivamente sono molto critici sull'uso che viene fatto appunto nel campo delle illustrazioni nel campo delle notizie nel campo dell'immagine fornita come notizia fuorviante come fake news noi abbiamo un'infinità di esempi vediamo sul web io posso portare per esempio un aneddoto lo racconto qui eccetera io sono modellista non modellista appassionato di modellismo di orami e così via per cui non ho il tempo di farli perché mi dedico quasi esclusivamente ai disegni però faccio parte di alcuni gruppi su facebook di modellisti persone che costruiscono di orami storici e così via c'è una pagina di facebook che si chiama diorama dreams che crea digitalmente dei di orami come se fossero dei plastici a tutti gli effetti con i soldatini che può essere il villaggio dell'west il castello il villaggio eschimese o la base artica la base su Marte la città tirolese fotografati come se fossero con i modellini costruiti in primo piano e con lo sfondo sfumato e sembrano immagini vere io mi sono trovato che uno ha pubblicato guardate cosa ho trovato erano due castelli con tutti i cavalieri e così via e sembravano effettivamente figurini veri tridimensionali e tutti quanti i partecipanti del gruppo che chiedevano ma quali kit di montaggio sono stati usati ma è bellissimo ma è un lavoro quanto ci ha lavorato dove si trovano questi pezzi e così via e alla fine io sono dovuto intervenire e ho detto guardate che è tutto completamente digitale non esiste non esiste per cui qui c'è il lato ingannevole dell'intelligenza artificiale far credere che delle cose siano vere reali spacciarle per tali ma in realtà non esiste e questo può avvenire in qualsiasi settore così come la foto del Papa con il piumino di Balenciaga che ha fatto tanto discutere e così come altre immagini che potrebbero essere usate anche in modo illegale in modo ricattatorio e quant'altro altre domande Trax non esiste un robot davanti un cervello rappresentato un labyrintho e si 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 D'ailleurs, il y a la sortie du labyrinthe, ce n'est pas un piège, il y a la sortie dans le cou. Ou bien, on peut comprendre que, c'est ce que tu disais, Thierry, un cerveau humain ne sera jamais complètement absorbé et compris par un robot. Alors, moi, je pense qu'il faut se poser le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que le robot doit essayer d'apprendre notre cerveau tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que le robot doit essayer de nous abétir de façon à ce que, devenant de plus en plus bête, on se conforme de plus en plus, de plus en plus facilement et s'en révolte à ce que l'intelligence artificielle exigera de nous. Au début, il y avait aussi ce dessin d'un petit bonhomme très schématique à côté d'un labyrinthe, d'un circuit électronique, c'est ça, il vient de passer, voilà. Donc, c'était un peu la même idée de labyrinthe. Et on a parlé, je crois, du chauffeur de taxi qui ne connaît plus le plan de la ville. Ça veut dire quelque chose de plus que simplement je me sers d'un outil qui est extrêmement pratique. Ça veut dire que le chauffeur de taxi n'est plus celui que ma génération et sans doute votre génération a connu. Ce n'est plus cet homme qui connaît le nom des rues, qui connaît les petits restaurants, qui connaît la vie de la ville, qui sait dire là où c'est amusant, là où ça ne l'est pas, là où... Donc, il y a une perte de sensibilité, de connaissance, de partage avec les autres. Ce qui fait que le chauffeur de taxi, en plus, maintenant, fait ce travail un an, deux ans, trois ans, en essayant de trouver mieux. Donc, son travail devient de moins en moins intéressant. Il fait de moins en moins travailler son cerveau. Quand il rentre chez lui, il est quand même abruti par des heures et des heures dans des embouteillages. Il n'a plus le courage d'élever ses enfants. Il regarde son téléphone et la mère regarde le téléphone. Je pense que vous voyez ça tous les jours dans les transports publics. Donc, il n'y a plus de contact non plus avec les enfants. Donc, on est en train de fabriquer des hommes et des gens, des gens complètement, non pas idiots, mais rendus idiots. Et donc, l'intelligence artificielle sera d'autant plus puissante qu'elle aura affaire à une clientèle stupide, à Betty. Alors, après, j'ai d'autres observations à faire. Alors, la question, c'est, oui, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est en train de nous abrutir ? Est-ce que l'intelligence artificielle est même... Alors, la seule chose qui nous différencierait peut-être encore, c'est si l'intelligence artificielle était incapable de mots d'esprit, incapable d'humour. Je n'ai pas assez suivi le problème pour savoir si elle est capable de ça. Je pense qu'elle n'en a pas besoin. Elle s'en passera. Elle fera un peuple sans humour, sans esprit et un peuple qui n'en demandera plus parce qu'il ne saura plus ce que c'est. Je pensais être pessimiste, mais non. Non, je ne suis pas si pessimiste. Je pense que probablement sera un peu plus stupide, si le travail est fait pour nous, je crois. Oui, oui. Je pense que c'est difficile, c'est difficile de perdre les informations, des routes, des contacts humains et ainsi de suite. Peut-être que ça sert à favorir, non nous le savons encore. C'est-ce que nous sommes dans deux dimensions possibles. Un isolement ou un avicinement ? Et après je vais dire en français. La parole est de la fin, Marco. Terminator diceva che il futuro è una strada oscura. In realtà io ho sempre la speranza, in fondo la speranza non si perde mai. C'è la speranza che poi l'uomo sia in grado di gestire questa sua capacità di creare, poi in fondo, perché quello che ha sempre sognato l'uomo di essere anch'esso creatore, creatore di macchine, creatore di situazioni, creatore del proprio futuro. Ha forgiato sempre, l'uomo ha cercato sempre di forgiare qualche cosa, no ? E adesso si sta arrivando in fondo al sogno ultimo dell'uomo che è quello di creare una vita, creare un'intelligenza da usare per i propri scopi. E il fatto è questo, che c'è il rischio poi che alla fine questa intelligenza usi noi per i propri scopi. E lì dovremmo sapere quando fermarci. E per questo che hai scritto un libro intitolato Cronacche del mondo prima della risoluzione, reperti satirici sulla fine dell'umanità, quindi va per descrivere il tuo grande ottimismo sul futuro. Infatti, diciamo che quello poi è stato un po' il coronamento, insomma dovevo fare questa raccolta di disegni, poi alla fine l'ho vista come un grido d'allarme sulla nostra estinzione. Quindi adesso mi dispiace, tu vai a raggiungere qualcosa. Sono una cosa brevissima, sul discorso dell'umorismo, questo credo che ancora l'intelligenza artificiale non ci sia arrivata. Ci sono delle immagini molto belle, molto efficaci, ma il senso dell'umorismo probabilmente per un po' ancora rimarrà, per alcuni esseri umani che ce l'hanno già. Sì, ma infatti faccio questa chiosa. Se per l'illustrazione in effetti, l'abbiamo detto, ci sono molti timori, perché può essere utilizzata l'intelligenza artificiale in vario modo, ma fortunatamente l'umorismo, la satira, viene direttamente dal nostro spirito, dal nostro cuore, da meccanismi particolari, mentali, da un'empatia particolare che abbiamo noi con i fatti del mondo, con gli altri uomini. È molto difficile che l'intelligenza artificiale riesca a sostituirsi a noi, però non possiamo mai sapere. Però effettivamente, almeno sul momento, diciamo, siamo salvaguardati dall'originalità, sia dal punto di vista grafico, che dal punto di vista dei contenuti e del messaggio, della nostra peculiare, del nostro peculiare modo di lavorare, di pensare, di parlare. Nils, un'ultima parola. Ok. Quindi, il centro, il centro del lavoro, il artista, è così importante come l'art worka itself. Quindi, in questo momento, ci siamo nonostati se è una macchina o un altro vivente humana che è il centro, e non è più un'esperienza di interesse. Quindi, è molto importante che noi sappiamo cosa è che ci siamo deali con. Non mi chiedo che sia possibile, ma ci sono alcune delle cose che abbiamo bisogno di guardare. E abbiamo bisogno di distinguere between handling of facts and artistic expression because it's two different things. And yeah, that's it. No, dobbiamo chiudere adesso. Quindi mi dispiace potrai fare le tue domande dopo il sign up. Quindi voglio ringraziare Nils Boboyessen, Marilena Nardi, Marco D'Angelis e soprattutto la nostra interprete in cabina. Grazie a tutti di essere venuti. Buona serata e buon appetito.